Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi parleremo di frequenza di allenamento e risponderemo alla domanda quante volte dobbiamo allenarci all'interno di una settimana Allora, ci sono sicuramente sostenitori di basse frequenze di allenamento quindi di 2-3 volte a settimana, sostenitori di alte frequenze di allenamento quindi atleti che si allenano 6 volte a settimana, abbiamo atleti che si allenano 7 volte a settimana anche tutti i giorni e riposano giusto ogni tanto e tutti quanti hanno grandissimi risultati, come al solito quando parliamo di programmazione di allenamento da un punto di vista prettamente empirico quindi quando andiamo a vedere ce ne sono di ogni e tutto sembra funzionare il discorso è che al solito funziona nel momento in cui è contestualizzato bene quindi cerchiamo di entrare nel vivo dell'argomento e capiamo quante volte dobbiamo allenarci all'interno della nostra settimana di allenamento Allora, primo punto importante, quando parliamo di frequenza di allenamento stiamo parlando di un parametro di allenamento l'allenamento e la programmazione può essere divisa in variabili e parametri e il discorso di base, per farla semplice, è che le variabili sono gli obiettivi che noi abbiamo quindi per prima cosa dobbiamo impostare le variabili di allenamento volume, intensità, effort e densità di allenamento e in funzione delle nostre variabili e dei nostri obiettivi andremo ad impostare i parametri quindi in un certo senso la frequenza di allenamento è una conseguenza di quello che è il nostro volume di quella che è la nostra intensità ideale, l'effort eccetera e per quello rimando magari a un video delle quattro variabili di allenamento anzi, sull'Academy stiamo proprio parlando delle variabili di allenamento siamo arrivati nel nostro terzo modulo quindi là stiamo entrando nel vivo su come impostarle quindi sostanzialmente il primo punto da partire è che la frequenza è una conseguenza e deve essere in uno specifico impostata in modo da riuscire a seguire al meglio il volume di allenamento da sopportare l'intensità che abbiamo settato, da sopportare la densità che abbiamo settato eccetera eccetera quindi deve essere impostata in funzione di quelle che sono le nostre variabili questo è un punto molto importante perché alcune persone partono proprio dalla frequenza di impostare un programma voglio allenare 5 volte a settimana, voglio allenare di stretto 3, 4 volte a settimana e questo logicamente va a sfasare perché a questo punto se parto da quella che è la frequenza inverto il ragionamento e non riesco ad essere ottimizzato su quelle che sono le variabili che è il mio vero obiettivo ossia magari imposto una frequenza che non è l'ideale perché credo che sia ideale e manco il mio obiettivo di riuscire ad aumentare il volume riuscire a migliorare sull'intensità di carico, sull'effort in base alla progressione del mio meso ciclo di allenamento ok a questo arriveremo però per gradi torniamo a parlare un attimo di frequenza il punto di base è che più alta la frequenza meglio è perché questo? perché la frequenza di allenamento, ossia quante volte alleniamo un distretto muscolare rappresenta un input di stimolo ipertrofico che diamo ossia se noi nell'arco di un certo tempo diamo 5 input di allenamento il muscolo crescerà di 5 facciamo finta che ogni input equivale ad 1 rendiamolo molto semplice se noi nello stesso arco di tempo diamo 10 input di allenamento il muscolo crescerà di 10 quindi nel nostro anno non cresceremo di 5 ma cresceremo di 10 quindi la frequenza di allenamento di fatto è in qualche modo un acceleratore dei nostri progressi cioè ci permette di crescere più velocemente ok quindi io più mi alleno frequentemente più cresco quindi mi conviene allenarmi più frequentemente possibile ossia dovrei allenarmi idealmente tutti i giorni e dovrei allenare i distretti muscolari veramente tutti i giorni in questo modo cresco più velocemente in realtà non è così perché? perché quando parliamo di stimolo stiamo guardando soltanto un elemento del nostro quadro della nostra equazione in realtà allo stimolo dobbiamo equiparare anche il recupero ed è la capacità di recupero poi effettivamente quella che determina quanto cresciamo ossia se noi stimoliamo di 10 numero a caso e recuperiamo di 5 noi effettivamente cresciamo di 5 possiamo stimolare 12 ma se il nostro recupero è sempre massimo 5 allora sempre di 5 cresceremo quindi non importa noi quanto stimoliamo ma è alla fine la capacità di recupero quella che determina in ultimo la nostra capacità di adettamento ipertrofico ok quindi qua si è accesa la lampadina a molte persone che dicono perfetto se quello che a me interessa è il recupero e voglio dare uno stimolo quanto più frequente possibile che cosa faccio? riduco l'intensità di allenamento quindi mi alleno in buffer mi alleno in modo più leggero e riducendo l'intensità di allenamento ottengo un recupero più veloce quindi posso allenarmi più frequentemente ossia invece di fare una sessione molto tassante su un determinato distretto e riallenarlo poi una settimana dopo 5 giorni dopo faccio una sessione meno tassante e lo rialleno dopo 2-3 giorni e quindi aumento la mia frequenza di allenamento avrò più stimoli anche questo gioco non funziona perché riducendo l'intensità di allenamento riduco lo stimolo quindi sì è vero nel nostro quadro invece di dare 5 stimoli ne do 10 però do 10 stimoli magari della metà che sono la metà più efficaci e quindi il mio muscolo sempre di 5 crescerà ok quindi sto da capo a 12 ma allora sostanzialmente la frequenza di allenamento non conta niente deve essere semplicemente così come la gestisco da una parte è fortemente influenzata nel senso che l'obiettivo è sicuramente aumentarla il più possibile però siamo vincolati da quella che è la nostra effettiva capacità di recupero quindi vi rimando al video sul recupero che ho fatto qua sul canale YouTube 5 consigli per migliorare il recupero o qualcosa del genere per vedere che cosa concretamente possiamo fare per aumentare il recupero questo ci porterà ad avere una frequenza maggiore a parità di stimolo quello che realmente ci interessa però sta di fatto che possiamo dare degli indici generali per riflettere un po' anche semplicemente su quante volte conviene allenarsi a settimana perché tutto quello che sto dicendo per voi ha senso però alla fine servono i numeri per potervi orientare perché giustamente come anche succede a me e succedeva all'inizio andavo là e vedevo atleti che si allenano 3 volte atleti che si allenano 6 volte ok cerco di ascoltarmi però mi serve più o meno un indice cioè io che mi alleno per esempio 6 volte sto facendo troppo oppure io che mi alleno 3 volte sì c'è qualche atleta che lo fa ma sto facendo forse troppo poco il mio corpo mi dà dei segnali positivi però forse c'è qualcosa che sbaglio e ci sta come discorso quindi cerchiamo di vedere un po' degli indici un po' più concreti la nostra capacità di allenarsi nel corso della settimana in realtà è caratterizzata dal nostro livello sia se siamo neofiti, intermedi o avanzati quando siamo neofiti il discorso in realtà è che potremmo sostenere una frequenza veramente elevata allenarci veramente tutti i giorni però non conviene semplicemente perché per il neofita lo stimolo realmente necessario è piccolo è minimo e il nostro obiettivo è proprio quello di ricavare il massimo dal minimo ossia aggiungere sessioni di allenamento non ci porterebbe a stimoli ulteriori perché il muscolo sarebbe già saturo dello stimolo necessario per crescere e andrebbe semplicemente ad affaticare il recupero quindi paradossalmente andremo a recuperare peggio e a migliorare più lentamente quindi per il neofita realmente il mio consiglio è quello di allenarsi tra le 3 e le 4 volte a settimana 3 volte a settimana con una sessione full body all'inizio quindi 3 sessioni di full body o 4 volte a settimana quando iniziamo ad essere già un pochetto più avventurati nel nostro percorso e in questo caso possiamo utilizzare una split di upper lower quindi una sessione di upper per la parte superiore e una sessione di lower per la parte inferiore poi una sessione di upper di nuovo diversa dalla prima e di nuovo un'altra sessione lower diversa anche in questo caso dalla prima sessione di lower quindi 2 sessioni di upper e 2 sessioni di lower nel corso della nostra settimana per una frequenza di 4 volte ora quando iniziamo a diventare intermedi che cos'è che succede? che il nostro muscolo ha bisogno di più stimolo per potersi adattare giustamente cresce di più diventa saturo da quello che gli abbiamo dato ha bisogno di un stimolo maggiore e questo stimolo è ottenibile per l'intermedio soprattutto con più volume di allenamento perché è la variabile che riesce a gestire meglio è la variabile che riesce ancora a sopportare al meglio quindi è quella più funzionale per l'intermedio e questa è la ragione per cui in tutti gli studi che voi vedete che vengono fatti su soggetti che nella maggior parte dei casi sono al limite tra il neofito e l'intermedio perché non sono professionisti di bodybuilding ma sono molto spesso atleti universitari ecco in tutti questi studi vedete che il volume è veramente fondamentale proprio perché è la variabile che si presta un po' meglio per l'intermedio quindi in questo caso arrivare a splittaggi più alti quindi tra le 4 e le 6 volte a settimana addirittura in alcuni casi, in alcuni periodi allenarsi tutti i giorni può essere funzionale ci possono essere molti intermedi che recuperano bene con questo splittaggio io stesso per tanto tempo, per tanti anni mi sono allenato 6 volte a settimana facevo push-pull legs, push-push-pull legs quindi una split di push-pull legs e poi ripetevo push-pull legs con una variante diversa e chiudevo quindi 6 giorni di allenamento e un giorno di recupero recuperavo molto bene perché l'impatto che avevo sulle singole serie allenanti non era così tassante soprattutto a livello neurale i carichi non erano così elevati perché stavano ancora aumentando e quindi riuscivo a recuperare bene e riuscivo a sostenere bene come me molte persone riuscirebbero a gestire bene 6 allenamenti a settimana altre, magari 5 allenamenti, altri 4 allenamenti è soggettivo, ok? però diciamo che l'intermedio va su questo range dipende molto anche da quella che è la vostra vita da quanto è impegnata, da quanto è stressata logicamente più siete liberi, magari studenti, siete tranquilli più riuscite a sostenere molle di lavoro se invece avete una vita frenetica, lavorate e tutto il resto magari la molle di lavoro che riuscite a sostenere è inferiore e va benissimo così e fa parte del gioco quindi contestualizzate sempre ora, che cosa succede quando iniziamo a diventare avanzati? questo è il trabocchetto uno pensa più sono avanzato più ho bisogno di volume per lo stesso ragionamento in realtà avviene un meccanismo diverso quando siamo avanzati succedono due cose la forma migliora, ossia la nostra esecuzione è molto più specifica sul distretto target almeno auspicabilmente dovrebbe essere così e migliora anche il carico ossia i carichi tendono ad aumentare quindi se un intermedio magari su una pressa esempio classico sta sui 300 kg l'avanzato inizia a lavorare già sui 500 kg ok? quindi logicamente l'impatto che ha quella stessa serie di pressa ipotizziamo serie da 15 è totalmente diverso sul sistema anche se a livello di RM di intensità stiamo sempre parlando delle stesse percentuali però comunque da una parte abbiamo 300 kg dall'altra 500 l'impatto sul sistema è totalmente differente ok? quindi non ragionate soltanto in percentuali ma cercate di ragionare anche in termini assoluti su quello che è l'impatto del carico sul vostro sistema quindi che cosa succede a questo punto? che a parità di serie le serie che riuscite a gestire il volume che riuscite a sopportare è decisamente inferiore e qua molti cadono nell'inganno di diminuire l'intensità però di nuovo diminuendo l'intensità diminuiamo lo stimolo e sottovalutiamo un fatto ossia che è il volume la variabile che più di tutto impatta sul recupero quindi arriviamo a fare tante serie ok? perché vogliamo stare a volume elevato lo stimolo è inferiore perché l'intensità è bassa quindi non sollecitiamo di questo l'ho già parlato in diversi video non sollecitiamo al massimo gli stimoli di adattamento ipertrofico e ciliegina sulla torta recuperiamo peggio in realtà soprattutto da un punto di vista nervoso iniziamo a consumarci quindi magari da un punto di vista neurale siamo lucidi perché l'impatto sarà inferiore ma da un punto di vista proprio fisico di affaticamento muscolare tendiamo a peggiorare quindi in realtà che cosa succede? che quando iniziamo a diventare avanzati dobbiamo andare a ridurre il volume perché è come se il nostro volume contasse di più è come che invece di girare con banconote da 10 euro iniziamo a girare con banconote da 100 se noi vogliamo lo stesso quantitativo di soldi avremo meno banconote ok questa calza bene e ho fatto una metafora senza tirare in ballo le automobili quindi da questo punto di vista il volume deve diminuire e logicamente diminuendo anche il volume avendo un impatto neurale molto più forte nelle nostre sessioni diminuirà anche la frequenza e normalmente l'avanzato sta tra le 4 e le 5 volte a settimana ossia difficilmente riesce a sopportare più di 3 allenamenti di fila perché inizia a diventare quello il fattore non ragiono più sulla settimana ma quanti allenamenti di fila riesco a portare avanti quindi molto spesso faccio un push faccio un pull e nel momento in cui faccio una sessione di gambe sto veramente cotto questo è veramente il massimo che ho visto riuscire a sopportare con efficacia da un avanzato quando ci si mette un quarto allenamento dopo un push, un pull e un gambe o prima di un push, un pull e un gambe veramente non c'è capacità di riuscire ad avere una buona performance quindi questo è normalmente la splittaggio classico è 3 giorni on quindi 3 giorni di fila un giorno di riposo poi 2 giorni di allenamento un altro giorno di riposo e così si chiude la settimana però anche là ci si distacca un po' dalla settimana perché molto spesso lo splittaggio diventa 2 giorni on, 1 giorno off 2 giorni on, 1 giorno off e così si ripete quindi si falsa totalmente rispetto alla settimana ma si segue un po' più quelli che sono i ritmi di recupero del nostro corpo ragazzi quindi come vedete queste sono un po' delle cifre indicative però il consiglio che vi do è sempre cercate di percepire io stesso con i miei atleti non vado mai o difficilmente vado a dare una split impostata della serie ok questo è il tuo splittaggio settimanale gli do una split nel senso queste sono le tue sessioni questa è un'idea di splittaggio però ascolta il tuo corpo se hai bisogno di un giorno di recupero extra prenditelo se ti senti di allenarti se ti senti veramente pieno di energie allora allenati fammi sapere tutto quanto nel report se io vedo che ti stai allenando un po' troppo probabilmente ci stiamo spremendo troppo poco quindi c'è qualcosa da sistemare se vedo che ti stai allenando troppo poco viceversa se stiamo sbagliando qualcosa il carico magari è elevato però ascolta il tuo corpo perché non posso essere io a dettare quanti giorni allenarti a settimana ti do le sessioni ti do lo stimolo e quelle piccole differenze ossia prenderti un giorno in più un giorno in meno me le riporti nel feedback che mi vai a dare nel report che mi vai a dare in modo che io mi posso regolare e riesco a capire però devi essere tuo a percepire il tuo corpo è un po' come se io impostassi a monte il carico cioè ti dico ok fa la panca con 100 kg ha no senso che io faccia una cosa del genere perché se ti dico così io magari sottovaluto del tutto quello che può essere il tuo massimale o come ti senti quel giorno nello specifico quindi voglio che si sia abbastanza liberi quindi ascoltate sostanzialmente quello che vi dice il vostro corpo perché come dico sempre a tutte le soluzioni e tutte le risposte alle vostre domande basta semplicemente ascoltarlo ragazzi con questo è tutto domande qua sotto sarò ben liato di rispondere come sempre e ci vediamo al prossimo video ciao